EduChange torna per il quinto anno. Sì, è un progetto che stiamo portando avanti da un bel po' di anni e l'obiettivo è quello di pubblicizzarlo all'interno della città di Bari, perché è un progetto che non viene conosciuto molto e quindi oggi siamo qui proprio per questo. A chi si rivolge EduChange e ISEC? Noi come EduChange ci rivolgiamo alle scuole di primo e secondo grado, ISEC si rivolge agli studenti universitari. L'obiettivo del progetto è portare studenti stranieri forestieri a Bari? Sì, portare studenti forestieri a Bari e far crescere gli studenti che ci sono a Bari, perché è importante la mobilità internazionale in un mondo in cui la globalizzazione oramai è fondamentale. In una globalizzazione imperante l'obiettivo è l'interscambio culturale? Sì, è certo. Chiaramente è una delle cose più importanti, bisogna appunto stimolare i giovani studenti italiani a conoscere nuove culture. Al netto di una scuola che comunque mostra tutte le sue lacune, c'è fermento tra gli studenti? C'è sicuramente fermento. Noi dobbiamo stimolare, nel nostro piccolo come associazione proviamo a fare questo. È un progetto che dà una grande possibilità agli studenti, in questo caso a Baresi, però come ha già detto il Presidente, a tutti gli studenti che fanno parte di questa associazione, di vivere quella che per me è un'esperienza fondamentale, cioè quella che ti permette di conoscere una cultura diversa dalla nostra. Poi per quanto riguarda il ruolo che rivesto, bisogna dare importanza all'istruzione dei giovani. Gli scambi interculturali sono quelli che dovrebbero essere maggiormente valorizzati ed uccendono, fa altro che valorizzare questi, motivo per cui io non ci ho pensato due volte ad essere portavoce e dar loro la possibilità di far conoscere quello che è loro operato a tutti i cittadini e non solo. Una istituzione, in questo caso il Comune, che guarda e dialoga con i giovani? Eh beh, certo, anche perché io dico sempre, noi siamo i grandi del domani.